Nella serata di ieri la sede del social club Grottagliesi è stato il punto di ritrovo di una fetta importantissima dello sport grottagliese. In città esistono due realtà sportive importanti con al seguito un gran numero di tifosi, la Volley Club Grottaglie e l'Arset Labor Grottaglie. Il trade union di queste due società sono propri tifosi che seguono con la stessa enfasi sia la squadra di pallavolo che milita nel campionato di Serie C che la squadra di calcio che gioca nel campionato di prima categoria. La serata informale organizzata per uno scambio cordiale di auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo ha avuto come ospite iniziale il dottor Lenti, presidente dell'associazione Onlus Medici per San Ciro, al quale i tifosi hanno regalato una foto su tela rappresentante la donazione di in euro fatta da i grottagliesi l'estate scorsa, come contributo per l'acquisto di un'autoambulanza da mettere a disposizione dei cittadini. Di contro il dottor Salvatore Lenti ha ricambiato il gesto consegnando ai massimi rappresentanti del social club una bottiglia da stappare per festeggiare un eventuale successo sportivo. Sono intervenuti anche il presidente della Volley Club Grottaglie Giuseppe Quaranta e il patron dell'Arset Labor Grottaglie Carmelo Lavolpe, ai quali Ciro Santoro, in rappresentanza dei grottagliesi e di tutti i tifosi, ha consegnato due manufatti con suddipinti i luoghi ufficiali delle due società. Nell'intervento il presidente Quaranta ha ricordato quanto fondamentale sia stato il supporto dei tifosi nell'occasione della promozione in Serie C e quanto lo sia tuttora, augurando a tutti di poter gioire ancora per le vittorie e per i taguardi da raggiungere. Il patron Lavolpe, invece, ha ringraziato i tifosi per la loro costante presenza sugli spalti del Damuri e in trasferta, sottolineando l'importanza di avere un tifo così caloroso, augurando e augurandosi di poter festeggiare a fine stagione qualcosa molto più considerevole. Graditissima anche la presenza e l'intervento del vice sindaco con delega allo sport Vincenzo Quaranta, che ha espresso il suo compiacimento per i risultati delle due società nelle competizioni di riferimento, ribadendo la vicinanza dell'amministrazione comunale alle realtà sportive cittadine. A chiudere l'incontro lo scambio di maglie tra il coach Maraciulli e mister Marinelli, come gesto di solidarietà sportiva, ma anche di forte unione tra due sport completamente diversi, tra loro, ma che uniscono la città sotto gli stessi colori, quelli biancazzurri di Grottaglie. Grazie a tutti.